Buonasera ai telespettatori di Rete7, vediamo insieme le notizie di stasera e di domani. Intanto proseguono sino al 6 aprile i rallentamenti sul ponte a Medio VIII, quello di strada Settimo per lavori dell'Acquedotto. Questa notte, come di consueto, le operazioni di pulizia meccanizzata con la chiusura dei sottopassi, mentre tra le 31 e 30 chiude sottopasso Repubblica Portapalazzo, dalle 2 alle 4 chiude sottopasso Lanza, Corso Massimo d'Azeglio. Sino al 3 aprile la linea 10 è gestita con autobus sull'intero percorso. Veniamo alle notizie di domani, venerdì 30 marzo, dalle 7 alle 14 chiude via Accademia Albertina, tra Corso Vittorio Emanuele e via Mazzini, con la conseguente deviazione degli autobus che la transitano le linee 6, 18, 61 e 68. Alle 10 in via San Francesco d'Assisi, presso la lapide posta quasi all'angolo di via Monte di Pietà, la commemorazione nel trentennale dalla scomparsa dell'agente di Polizia Municipale Roberto Bussi, si è ucciso in servizio mentre cercava di fermare un malfattore. Domani sera dalle principali parrocchie cittadine per le vie dei quartieri, le vie Crucis. Da domani e sino al 1 maggio al Parco Carrara, Circo Cuba e il Circo Nacional de Cuba. Dalle 21 alle 22.30 domani sera, deviazioni di percorso in Michelino per le linee 35, 39 e 96. Direi che è tutto, buona serata, buon viaggio, a domani!